Una giornata importante per la nostra CISL della Calabria, ma anche per tutta la CISL nazionale. Rinnoviamo il gruppo dirigente, il segretario uscente, Paolo ricoprerà un importante ruolo nella bilateralità a livello nazionale e Tonino viene eletto segretario generale della CISL della Calabria. Continuità nella linea dell'organizzazione e capacità di rinnovare il gruppo dirigente. Questa nostra amata terra Calabria tra i tanti problemi che vive c'è quello principale che è quello del lavoro. Il lavoro che manca e la qualità anche del lavoro, quel poco che c'è, è un lavoro fortemente precarizzato. Per cui c'è un grande lavoro da fare, ci auguriamo in sinergia anche con le istituzioni locali per vedere come da un lato incoraggiare la crescita, che è quello che ci vuole in un territorio come questo, che attiri nuovi investimenti pubblici e privati, quindi con politiche che fanno diventare questo territorio attrattivo finanziamente di investimenti.